Urmet Call2U porta il videocitofono sul tuo smartphone. Così puoi rispondere anche quando non sei a casa o in ufficio. Devi solo scaricare l'app, inserire i dati e sei già connesso al tuo videocitofono. Un corriere deve recapitare un plico in tua assenza e vuoi chiedergli di consegnare a un vicino. Sei in ritardo per l'appuntamento con un cliente che sta già suonando al campanello del tuo ufficio? Grazie a Urmet Call2U potrai ricevere la chiamata videocitofonica sul tuo smartphone, dialogare con l'interlocutore e aprire il cancello e il portone, esattamente come se fossi davanti al monitor d'appartamento. Urmet Call2U è semplice da usare. È sufficiente attivare la funzione Presence sul monitor uscendo da casa o dall'ufficio. Da questo momento l'inoltro della chiamata è attivo. Urmet Call2U funziona con tutti i sistemi videocitofonici digitali Urmet Hyper Voice. Per installarlo è sufficiente un piccolo aggiornamento all'impianto condominiale e installare l'app Call2U sul tuo smartphone. Chiedi al tuo installatore di fiducia.